Quando è che ce ne siamo resi conto di quanto importante era il vostro ruolo sociale? Quando siamo stati costretti a chiudere. Le parole del sindaco fanno equa quelle del presidente Ascom Confcommercio Treviso Federico Capraro che insieme al vice sindaco Andrea De Checchi hanno consegnato alle attività storiche di Treviso il riconoscimento della regione in quanto luoghi di valore e presidi della comunità. L'ortofrutta Ghedin, l'oreficeria De Rui, l'antiquario Antichità Vanzella, l'ortofruttico, la tasca, l'osteria Dalla Gigia e il centro contabile. Via Toniolo vicino alla Camera di Commercio Piazza Borsa. Dal 75 c'è il negozio Buffetti, 30 ottobre 75 sì. L'attività è stata aperta nel 1925 dal nonno di nome Valentino, è lì dal praticamente 25 nella stessa porta, sempre lo stesso ingresso, è passata poi al figlio Augusto e adesso siamo i nipoti, io Boschiero Marco e mio cugino De Santi Lorenzo. Io faccio proprio io personalmente 50 anni, ma il negozio è da 58 anni che è in Viale Montegrappa. Tutti esercizi commerciali che possono vantare decine di anni di presenza stabile in centro e che sono diventati punto di riferimento per la trevigianità. L'osteria Dalla Gigia c'è da almeno un secolo, io sono subentrata nell'agosto 2019 da Sandro Ovidio che mi hanno accompagnata oggi e loro l'avevano presa nel 1982 ed è una delle osterie più storiche della città. All'incontro è arrivato anche qualche ex titolare come gli ex storici di Vicolo Barberia, Sandro Valiera e Ovidio Gobbo. Da poveri pensionati, vecchi e malandati, basta? No, 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 cerchiamo di restare giovani, di stare sempre vivi. Ci piacciono moltissimo queste rappresentazioni, queste cose, ci piacciono moltissimo e merita Treviso, merita queste cose perché così torna gente, è bellissimo vederla viva Treviso.